ciao a tutti bentornati in questo nuovissimo video vlog oggi siamo mercoledì 7 febbraio qui c'è il riflesso che il sole sta tramontando la luce accesa perché ho già chiuso qui l'avanti sto montando il video di San Valentino che sarà già online tra poco cioè tra poco il video lungo 12 minuti logico chi ha 12 minuti e 40 mi già vi avviso quanto è lungo ma tanto quello vedete dopo prima di questo video allora sto in fase di montaggio che il nome del titolo io utilizzo avs studio no avs video editor 8.0 ovviamente io questa applicazione l'ho pagata e quindi adesso sospettando che mi richieda di nuovo il pagamento che non so quando che mi ricordo che sia parli di fulmine spuntate fulmine tu dove sei dove sta dove sta dove il cane fulmine dove sei le caculo dove sei ah 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 che ho sentito la mamma fa rip hop vitro flacca con arrivato certo tutto il fatto di fulmine eh ah 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 ahδ ditemi un po' come state voi benvenuti a chi si è iscritto negli ultimi ore, negli ultimi giorni benvenuti, benvenuti ancora siete sempre benvenuti na, for me c'è il fondotinta ciao Italia ciao che stai facendo? ti prendo? ti prendo? non vengo fino di là vabbè ne approfitto di prenderla di là perché tanto devo cambiare la la batteria come stavo dicendo? l'ho presa finalmente ciao Italia, saluta ciao a tutti io sono simile Italia, è la telecamera da questa parte non là sotto su, sali sali tanto, te la chiama cane ciao mi ha su sto vicino vati a vedere, guarda no, sul timida nascondimi oh, oh vuoi finire tu tu la vuoi finire? scendi ogni volta che la prendo in bacio è la stessa storia amore amore puro tagliamo su con la vita dai niente ora ricopriamo 1, 2, 3 ma guardate te mi piacerebbe ciò non patto ciò non patto ora la molesta ce l'abbiamo fatta molestarla vuoi venire? vieni qui hai finito? hai finito? hai finito? battetela siediti siediti ciao andatemene via lei è come ritornata sono in pigiama adesso mi vado anche a stuccare di nuovo do subito dopo poi c'è stato un brutto tempo si è scurito quindi per fortuna almeno in make up sono riuscito a farlo video make up questa prossima settimana non ci saranno purtroppo perché da brutto tempo vabbè ma se anzi sono video vlog cercherò di fare qualche video più importante nei vlog vediamo un po' questo video vlog anche se è corto è tutto ci vediamo i cibi sono di là ci vediamo domani per il nuovo video vlog vedo com'è il tempo domani anzi domani devo andare dalla dottoressa dopo la notte so che il telefono non suona nemmeno quindi parte la chiamata e si stacca mi faccio dare il numero fisso vediamo un po' e basta ci vediamo domani per un nuovo video vlog vediamo domani ciao grazie a tutti